Ah! Ora, quale modo migliore di passare il sabato pomeriggio se non sdraiati sul divano a guardare un film ottimista con tanti snack? Ah? Penso che sia meglio che vada a vedere io. Oh mio Dio! Chi è questo? È il ragazzo più bello che abbia mai visto in vita mia! Lo fissai a bocca aperta per lo stupore, ma poi vedi che mi guardava anche lui e capì che dovevo dire qualcosa. Ehi, come posso aiutarti? Ehi, sono Jayden. Io e mia madre ci siamo trasferiti qui accanto. Oh, in questo caso benvenuti nel quartiere! Jayden sorrise mentre mi diede una scatola. Era già un regalo per me? La presi e arrossì con un grazie. Apri la scatola e vidi che era piena di biscotti dall'aspetto delizioso. Li ha fatti mia madre. Trova che le persone siano molto più accoglienti quando ci sono i biscotti. Parlammo ancora un po', poi disse che andava ad aiutare sua madre a disfare le valigie. Oh, perché questo momento doveva già finire! Il giorno dopo a scuola non vedevo l'ora di trovare la mia amica Stella per parlarle del mio vicino splendido da morire. Ma guarda caso, lei mi trovò al mio armadietto e iniziò subito a parlare di un nuovo tipo figo. Hmm, dovevo vedere quanto fosse bello questo ragazzo. La chance si presentò all'ora di pranzo, quando Stella indicò quello nuovo che veniva importunato da Anna, una presuntuosa della classe. So chiusi gli occhi. Mamma mia! Il nuovo ragazzo figo non era altri che Jayden! Guardai Anna sbattere le ciglia verso di lui e poi scuotere i capelli dietro la schiena. Ah, doveva smetterla di flortare! Era così tragico! All'improvviso Jayden mi vide, sorrise e si precipitò verso di me. Ciao Lara! Oh cavolo, sono felice di vederti! Si avvicinò al mio orecchio e sussurrò. Quella ragazza mi sta facendo impazzire, possiamo andarcene da qui! Poi, con mia grande sorpresa, mi prese la mano e mi portò via. Vidi l'espressione scioccata di Anna e non potevo fare a meno di sorriderle. Prendi questo, Anna! Sta tenendo la mia mano, non la tua! Poi, dopo scuola, io e Jayden tornammo a casa insieme. Si scoprì che, oltre a essere il ragazzo più figo del pianeta, era anche molto dolce e divertente. Tornando a casa, vidi Cynthia, la mamma di Jayden, innaffiare le piante. Quando ci vide, ci salutò insistendo per invitarmi a entrare per una limonata fatta in casa. Siamo andati tutti d'accordo. Sembra che presto avrò un ragazzo, uno la cui mamma mi adora. Da quel momento io e Jayden uscivamo molto. Pranzavamo insieme, andavamo in biblioteca e tornavamo a casa insieme. Ero quasi certa che le ragazze a scuola fossero molto gelose, soprattutto Anna. Un giorno, a ginnastica, il prof ci disse che giocavamo a dodgeball e ci divise in due squadre. Anna, che era nell'altra squadra, non smetteva di puntarmi. Feci del mio meglio per schivare i suoi tiri, ma, bang, mi colpì. Ora ascoltami. Ai ragazzi come Jayden non piacciono le ragazze normali come te. È mio. Smettila di andargli dietro. Furiosa urlai. Non gli sto andando dietro. È già il mio ragazzo. Ehm, in realtà no, ma ero abbastanza sicura di piacere anch'io a Jayden. Aspetta e vedrai. Presto si stancherà di te e correrà da me. Ah, Anna era così fastidiosa. Avevo bisogno di sfogare le mie frustrazioni, così mi sfogai con Stella su di lei. Lascia stare Anna. Tanto non piace a nessuno. Quanto a Jayden, è ovvio che gli piaci. È solo nuovo qui e forse è timido per chiederti di uscire. Già, hai ragione. Deve essere solo timido. Ma, ah, so che Anna gli correrà sempre dietro. Allora dovresti rendere ufficiale la tua relazione con Jayden. Non aveva tutti i torti. Se Jayden era troppo timido per uscire, allora avrei dovuto prendere io l'iniziativa. Così Anna non avrebbe avuto altra scelta che farsi da parte. Stasera era il momento. Così scrisse a Jayden. Ho bisogno del tuo aiuto. Vediamoci alle venti vicino allo scivolo del parco. Ma lui mi rispose che non poteva stasera, perché doveva aiutare sua madre a fare qualcosa. In quel momento mio padre arrivò a casa prima del solito e annunciò che avrebbe portato me e mia sorella Megan fuori a cena. Oh, il ristorante era carino. Entrai insieme a Megan e... Eh? Cosa ci facevano qui Jayden e sua madre? Poi mio padre si avvicinò a Cynthia, la baciò sulla guancia e disse... Ciao tesoro. Io e Jayden ci scambiamo sguardi stupiti. Poi guardammo gli adulti in cerca di spiegazioni. Lara, Megan, lei è la signora Green, la donna di cui vi ho parlato. Cosa? Voglio dire, sapevo che papà usciva con una donna di nome Green, ma non avevo idea che fosse la mamma di Jayden. Poi, prima che ce ne rendessimo conto, mio padre si inginocchiò, tirò fuori un anello di diamanti e le chiese di sposarlo. E sapete cosa? Lei ha detto sì? Oh, no. No, 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 no. Non possono sposarsi, perché poi Jayden sarebbe mio fratello. Megan era felicissima e li abbracciò entrambi, mentre io fissavo Jayden sconcertata. Non fraintendetemi, voglio davvero che mio padre sia felice. Ma perché lei? E che ne sarà di me Jayden? Da allora Cynthia sembrava essere sempre in casa nostra. Preparando torte, canticchiando mentre spolverava e puliva e lanciando sguardi sdolcinati a papà. Poi un giorno voleva che io e Megan andassimo a comprare un abito da sposa con lei. Provò un abito e, beh, ok, le stava piuttosto bene. Ma quando mi chiese cosa ne pensassi, scossi solo la testa e dissi, beh, non è molto attraente, no? Cynthia ne provò altri, ma riuscì a trovare difetti in tutti. Poi, quando notai il suo sguardo scoraggiato, le diedi una pacca sulla spalla, dicendo, non preoccuparti, puoi sempre rimandare le nozze finché non trovi un abito adatto. Lei sembrava un po' sorpresa, ma poi mi sorrise e disse, va bene, Lara. Comunque, ora il vestito era stato scelto, quindi almeno potevo andare a casa, giusto? Sbagliato. Tornando a casa passammo davanti a una sala giochi. Cynthia ci portò lì e poi mi sfidò entusiasta a una partita dell'occhi sul tavolo, ma io dissi scherzando, va bene, giocherò, ma se perdi non meriti di essere mia madre. E indovinate? Ha vinto! E peggio ancora, Megan non smetteva di guardarmi male per i commenti che avevo fatto. Cavolo, stavo solo scherzando. Ma che problemi hai oggi? Mi buttai sul divano e spiattellai tutto. Avrebbe preso le mie difese, giusto? Invece, no, non l'avrebbe fatto. Che c'è? Tu e Jayden non state nemmeno insieme davvero. Ma papà ama Cynthia. Entrambi meritano di essere felici, quindi basta fare la mocciosa. Poi se ne andò furiosa in camera sua. Mi sembra di impazzire. Ho una grande cotta per Jayden e so che lui prova lo stesso. Allora perché mia sorella non può essere matura da capirlo e sostenermi? Dovevo sfogarmi con qualcuno. Per mia fortuna c'era Stella. Perché nessuno pensa ai miei sentimenti? Non posso essere la sorella di Jayden. Ehm, scusa, Lara, non so cosa dire. All'improvviso dal tavolo vicino arrivò una voce sgradevole. Quindi è questo il motivo per cui Jayden deve uscire con te? Sei patetica, Lara? A quanto pare eravamo così prese nella conversazione che non ci accorgemmo di Anna e del suo gruppo al tavolo dietro. In realtà stiamo insieme da molto tempo. Non è colpa nostra se i nostri hanno preso una decisione stupida. Comunque che possiamo stare insieme o meno, non cambia il fatto che lo annoi così tanto che sceglierebbe di guardare la vernice asciugarsi piuttosto che stare con te. Come osi? Stava per afferrarmi i capelli, ma proprio in quel momento una mano la fermò. Era Jayden. Quel pomeriggio, mentre tornavamo a casa, confessai finalmente tutto a Jayden. Mi piaci molto, da quando ci siamo incontrati per la prima volta. So che anch'io ti piaccio, ma pensi che sarebbe imbarazzante perché i nostri genitori si sposano? Forse se lo dicessimo. Lara, sei una ragazza così dolce, mi piaci davvero. Ma solo come sorella. Cosa? Come osa dirmi una cosa del genere? Dovevo piacergli per forza, no? Sentendomi inspiegabilmente vergognosa e imbarazzata, scappai via da lui. Mentre ero sul letto e mi sfregavo gli occhi pieni di lacrime, pensavo solo a quanto fosse ingiusto tutto questo. Così, quando mio padre mi chiamò per la cena e io entrai e vidi quanto era felice, la mia rabbia ebbe la meglio e urlai, ti odio e odio anche Cynthia! Come osi cercare di sostituire la mamma! Poi tornai di corsa in camera mia. Hai fatto stare davvero male papà, lo sai vero? Non risposi, provavo le stesse cose, ma a nessuno importava dei miei sentimenti. Papà ha detto che veniamo sempre prima di tutto, quindi se sei davvero convinta di questo allora annullerà le nozze. In realtà sono molto arrabbiata con te adesso. Allora? Che ne sarà di me? Sei così immatura ed egoista! Non capivo come mai mia sorella potesse essere così menefreghista, così urlai, e allora? Non ti importa che la mamma sia stata sostituita da una donna falsa? E che dire di me? Perché a nessuno interessa come mi sento io? Oddio, Lara! Per una volta questo non riguarda te! Megan roteò gli occhi e se ne andò infuriata. Finalmente tutti smisero di parlare di quello stupido matrimonio! Ma perché non stavo affatto bene? Cynthia non veniva più a casa nostra e notai che la cucina di papà peggiorava sempre di più finché non smise del tutto e ordinò solo cibo da asporto. Intanto Jayden non si vedeva da nessuna parte a scuola. Stella chiese in giro per sapere dove fosse e venne fuori che se n'era andato perché tornava nella vecchia città. Impossibile! Dopo scuola mi precipitai a casa sua e piombai dentro per trovare lui e sua madre che facevano le valigie. Vi state trasferendo? Sì, sono venuta qui per sistemarmi e iniziare una nuova vita con Randall e questa casa è per il futuro di Jayden, ma le nozze sono annullate quindi... Chiesi subito a Jayden se potevamo parlare fuori. Mia madre ha pianto tantissimo. Randall è la sua anima gemella e non può stare qui se non può stare con lui. La cosa più fastidiosa è che è d'accordo con lui sul fatto che i figli vengono prima di tutto. Quindi spero che tu sia felice adesso. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? Le parole di Jayden mi facevano male al cuore. Oh no, era tutta colpa mia! Ero così ossessionata da Jayden che non pensai a ciò che era meglio per gli altri. Senza dire un'altra parola tornai di corsa a casa e irruppi in cucina dove papà stava fissando triste il suo caffè freddo. Papà, meriti di essere felice con Cynthia, quindi per favore vai a dirle quello che provi prima che se ne vada per sempre. Ma era troppo tardi. Cynthia e Jayden se ne erano andati. Scherzo! No, in realtà papà è riuscito a prendere Cynthia appena in tempo e le ha detto quanto la ama e che non può vivere senza di lei. Quindi indovinate? Sì, si sono sposati e ora sono entrambi più felici che mai. Ho imparato a mie spese che essere egoisti e incuranti dei sentimenti altrui per il proprio tornaconto rende tutti infelici. Me compresa. Quindi ora siamo una grande famiglia felice e credo che avere Jayden come fratello non sia poi così male dopotutto.